ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo la continuazione l'evoluzione del video che avevo fatto sui tre pannelli montati a pensirina se non avete visto il video andate a guardarlo video che tra l'altro era andato benissimo avuto un sacco di riscontri un sacco di visualizzazioni evoluzione perché perché li avevo messo tre pannelli e adesso ho ampliato l'impianto e avevo bisogno di metterne di più la parete era finita quindi ho unito l'utile al dilettevole ho detto facciamo un video dove faccio vedere come costruire una struttura a pavimento perché mi serve e perché magari può servire come spunto per qualcuno quindi fate conto di prendere quella struttura che avevo fatto perché ho usato la stessa struttura l'ho tirata giù e l'ho messa su una base di legno che ho costruito con le ruote quindi diventa una struttura anche mobile che comoda per manutenzione per girare i pannelli per orientarli in base al sole e soprattutto è una struttura che anche in contesti di condomini dove magari la realizzate per un terrazzo o comunque per un giardino tipo il mio nessuno potrà mai dirvi nulla perché è una struttura mobile nella vostra proprietà e nessuno potrà mai dirvi niente una premessa in questo video vi farò vedere che ho costruito questo basamento di legno usando dei travetti 50 per 50 tagliati alla bene meglio assemblati rinforzati con delle placchette degli angolari ma non vuole essere un tutorial su come diventare falegnami e come realizzare una struttura perfetta è uno spunto è una cosa che ho fatto in economia alla bene meglio per come è venuta è comunque robusta ma non mi servirà nulla a leggere nei commenti a guarda che potrevi fare un tenore potevi accoppiare il legno così potevi fare cosa non è quello l'intento del video l'intento del video è darvi uno spunto farvi vedere cosa si può fare e che risultato si può ottenere poi il legno non è eterno non l'ho neanche verniciato non l'ho trattato sicuramente sarebbe meglio farla in alluminio addirittura in inox che diventa indistruttibile ci sono mille modi di farla meglio però io ho fatto una cosa veloce per quello che avevo a disposizione per spendere poco e per proporre una cosa semplice tagliare quattro pezzi di legno e assemblarli con delle viti quindi ora bando le ciance sono andato a comprarmi in un brico man si che adesso si chiama tecno ma questi listelli 50 per 50 l'ho caricato in furgone vi farò vedere quattro passaggi su quelle poche cose da fare quindi dopo essermi caricato tutto adesso iniziamo a vedere le lavorazioni e cosa ci serve per andare avanti oltre i travetti un abitatore ovviamente qualche chiave perché dobbiamo stringere dei bulloni eccetera una squadra e una sega giapponese per tagliare i listelli a misura nel caso siano da tagliare se li prendete magari già tagliati o ve li fate tagliare questa fase non è da fare delle viti da legno ho preso delle 4x20 delle staffette angolari e delle piastrine di giunzione questo perché perché vi farò vedere che le userò per rinforzare la struttura i pezzi recuperati da prima e niente adesso mi metto a montare la base ah dimenticavo un pezzo le ruote ho preso delle ruote industriali da 80 alcune col freno alcune senza ne metterò 6 4 agli angoli e 2 in mezzo alla struttura di legno ok ora vi faccio vedere come tagliare questi travetti senza avere chissà quali attrezzature basta una sega giapponese poi magari di qualcosa vi lascio dei link in descrizione vengono dei tagli abbastanza dritti riuscite a fare quello che dovete fare è solo è una sega che funziona al contrario quindi dovete abituarvi ad usarla se non l'avete mai usata ok quindi mi sono preparato quattro pezzi in questo caso da 162 scarsi e quattro pezzi da 100 che saranno le traverse ok inizio quindi col posizionare i travetti uno in testa all'altro e inizio a mettere le staffette quelle piatte una per lato mettendole su tre lati ne lascerò uno libero vado avanti facendo la stessa cosa sia con diciamo il profilo inferiore che il profilo superiore fino ad arrivare al momento in cui devo posizionare le quattro traverse due saranno sui lati e due saranno interne prendo quindi l'interasse per posizionarli ad una distanza equivalente e pratico un foro perpendicolare per permettere l'inserimento di una vite più lunga in questo caso ho usato delle viti che non vi ho fatto vedere prima sono delle viti mi sembra 5x80 belle lunghe in modo da riuscire a prenderlo per bene fino in fondo pratico quindi un preforo e poi abito la vite in questo caso con un abitatore impulsi anche di questi abitatori avevo fatto un video perché sono molto molto comodi molto versatili sono comunque prodotti di qualità dopo aver fissato tutte le traverse aggiungo ancora delle staffette angolari per rinforzare la struttura e ne metto una in ogni angolo per quel che riguarda tutti gli angoli interni ok quindi ho rinforzato tutta la struttura dentro e fuori con angolari piastrine e angolari ovunque ok fino ad arrivare a questa roba qua adesso questo che il fondo lo userò per fissare sei ruote ok adesso praticamente giro questo basamento al contrario perché andrò a mettere le ruote in tre punti per lato poi finito quello metterò magari ancora qualche rinforzo dove magari vedo che c'è spazio e magari dei punti deboli giro quindi il fondo al contrario e sulla parte di sotto dove non ho messo le staffette piatte vado a installare le sei ruote ne ho messe due agli angoli e due centrate le ruote col freno saranno solo due ruote su sei di quelle esterne che rimarranno nella parte posteriore della struttura facilmente accessibili per frenarla nel mentre ho anche fissato ancora qualche staffetta piatta di rinforzo e questa è la base finita dove ho già montato anche le traverse della struttura fatta con gli angolari che sono le stesse che precedentemente nell'altro video avevo installato a parete ok come inclinazione dei pannelli ho scelto di fare un 45 gradi da tenere tutto l'anno per ottenere inclinazione di 45 gradi ho dovuto accorciare i supporti verticali ad una lunghezza di 112 per quel che riguarda invece le altre misure degli angolari che fanno la struttura le basi sono lunghe 100 mentre la parte obliqua dove poi si attaccano i profili per i pannelli sono lunghe in totale 154 ok ho tagliato quindi quattro sostegni a misura mi raccomando come avevo detto nell'altro video quando tagliate date sempre una bella spruzzatina di uno zinco spray per non far venire la ruggine diciamo troppo presto almeno fatto questo ho montato la stessa struttura che ho tirato giù incenerandola nella parte bassa e ho montato questi supporti verticali tagliati a misura 112 usando sempre il solito sistema della vite con il dado che va benissimo dopo aver assemblato tutta la struttura ho iniziato a posizionare i pannelli per aiutarmi ho messo dei pezzi di travetti avanzati come spessore sotto per metterli tutti alla stessa altezza e ho proceduto con fissaggio con i morsetti senza starvi a prevedere di nuovo tutto perché l'avevo già spiegato nel video precedente struttura che si può girare senza problemi che tra l'altro consente anche di avere un accesso per fare tutti i cablaggi e fascettare i cavi senza nessun problema perfetto struttura montata avete visto che la potrebbe muovere anche un bambino è stabile il cavo adesso è provvisorio perché quello della della vecchia stringa io di questa struttura ne farò un'altra per altri tre pannelli farò correre tutto il cavo lungo la recensione girando intorno 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 per finire qua dove ho due pannelli provvisori e dove avrò l'arrivo delle due stringhe bene questo questo è quanto una cosa relativamente semplice da fare vi ho dato indicazioni di qualche misura se non siete riusciti a capire avete bisogno di qualche informazione in più non esitate a chiedermelo nei commenti ora magari tutti mi chiederete è però messi così magari poi la prima volta che viene il vento te li ribalta e se li porta via no e vi spiego anche perché uno perché ho fatto delle prove la struttura è bella stabile è vero che i pannelli fanno effetto vela ma un pannello pesa 20 kg più la struttura più l'angolazione che non sono proprio verticali guardate che il vento non ve lo porta via ma vi do una prova io un giorno qua c'è stata una specie di tromba d'aria mi ha preso questo salterello da tre metri e mezzo me l'ha lanciato sopra la casetta tra l'altro me l'ha anche un po storta appena messa i pannelli non si sono mossi da dove erano perché erano frenati non si sono mossi si saranno spostati forse di qualche centimetro non avevo proprio i punti segnati invece vi dico che ad esempio una volta senza che venisse una tromba d'aria mi ero dimenticato di mettere i freni perché io specialmente i primi tre pannelli che ho a sinistra li giro verso est così la mattina iniziano a prendere il sole poi gli altri tre mi producono l'altro kilowatt e qualcosa durante il giorno tra tutte e due riesco ad andare benissimo poi dipende perché a volte magari ci serve giardino allora risposto tutti contro la casa però vi dico una volta non li ho frenati c'è stato un po di vento me li sono trovati spostati e mi è caduta la struttura si è puntata un po dove ho il prato perché non li avevo frenati non c'è stato un grande vento però li fanno effetto vela risposta ma anche quando c'è stata la tromba d'aria non me li ha ribaltati spero quindi che questo video sia stato utile per qualcuno che sia stato uno spunto interessante non ve l'ho chiesto all'inizio ve lo chiedo alla fine se vi è piaciuto se comunque vi piacciono anche solo alcuni dei miei contenuti un bel like ma non è tanto importante quanto un iscrizione perché tantissime persone guardano i miei video magari ne hanno anche tratto informazioni o degli spunti utili e non si iscrivono a sto benedetto canale cliccate vi ricordo che non costa niente gratis noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta o se passate negozio come dico sempre in qualche modo ci vediamo grazie ciao da massidattoli